Ciao a tutti, questo è un breve video per dare la mia testimonianza, far capire quello che io in primis e tutte le persone che sono rimaste fuori dalla Calabria, sono rimaste chi a Milano, chi altrove, stiamo vivendo. È un momento particolarmente grande di sconforto, non vi nego che non lo sto passando nel migliore dei modi perché anche io avrei voluto scendere in Calabria, tornare da mia madre, da mio padre, avrei voluto passare questo momento con loro per darci forza, sostegno. Invece ho deciso di rimanere nella città in cui comunque mi sono trasferita e sto cercando di costruirmi un futuro proprio per tutelare non solo i miei genitori ma anche tutte le persone che vivono al mio paese. Non avete idea di quello che noi stiamo passando, di quello che noi stiamo cercando di combattere in una realtà così grande come può essere quella di Milano, come può essere quella di Bergamo che è tra una delle città più colpite al momento. Quello che mi sento di dire è che nelle piccole comunità si può affrontare questa situazione, si può sconfiggere questo mostro. E rimanendo a casa non uscite, non uscite, andate a fare la spesa quando è necessario, non è necessario fare passeggiate, non è necessario fare footing, non è necessario fare attività fisica. Se fate attività fisica ad oggi non servirà a mostrare il vostro fisico ad agosto perché non ne usciremo più. Vi prego, non vanificate tutti gli sforzi che le persone al momento che non sono scese in Calabria stanno cercando di non vanificare. Fate, cioè, fatelo anche per noi, fateci sentire che almeno voi state cercando di fare il possibile. Dateci conforto, come? Rimanendo a casa, proteggendovi. Perché non ne vale la pena, non ne vale la pena, io lo sto vivendo qui da sola e non vi nego che lo sconforto è tanto. La sera vado a dormire con la testa piena di pensieri, con la paura, con l'ansia, l'angoscia di quello che potrebbe succedere l'indomani. Milano è devastata, come, ripeto, tante altre molte città. Milano è vuota, non si vede più in giro nessuno. Se non, ho file chilometriche per fare la spesa. E quando entri nei supermercati non trovi assolutamente nulla. File chilometriche per prenotare le mascherine, perché purtroppo non si può andare in giro senza. Abbiamo sottovalutato, sì è vero, abbiamo sottovalutato tutti noi. Però ad oggi, visto che comunque c'è stato modo di capire la gravità del problema, cerchiamo di fare nel nostro piccolo il nostro lavoro, che è quello di proteggere al meglio la Calabria. Una Calabria che, se dovesse, se dovessero verificarsi ancora più casi di quelli che ci sono attualmente, risulterebbe al collasso. Più di queste grandi città che già lo sono. Non abbiamo i mezzi disponibili per salvare le vite. Non abbiamo mezzi, non abbiamo niente. Quindi cerchiamo di aiutare anche questi poveri cristiani che stanno cercando di tutelarci. Per favore, vi prego. Fatelo anche per noi, per chi è rimasto, per chi non è sceso, per chi sta affrontando tutto questo da solo. Un bacio, nella speranza di potervi vedere presto.